Caio Giorgi potrebbe trasferirsi in Brasile al Cruzeiro. Il trasferimento potrebbe avvenire a marzo, quando aprirà il calciomercato brasiliano. Le voci si rincorrono e in un'intervista Ronaldo il Fenomeno, presidente del club, ha parlato proprio di Caio Giorgi, dicendo è stato sfortunato, ha avuto un infortunio simile al mio all'epoca, gli auguro il meglio. E quindi Ronaldo non ha smentito le insistenti voci sul possibile acquisto di Caio Giorgi proprio da parte del suo Cruzeiro. Smentita che invece è arrivata in Italia da parte di alcune fonti giornalistiche secondo cui la Juventus e il Cruzeiro non hanno avuto nessun contatto recente. Che parentesi è stata quella di Caio Giorgi alla Juventus? Sfortunata, sì, ma è stato anche gestito male. Non dimentichiamo infatti che a inizio 2022 il ginocchio se l'è sfasciato in una partita che non avrebbe dovuto mai giocare in Serie C in trasferta con l'Under-23. Se Allegri gli avesse dato più spazio in prima squadra forse non avrebbe dovuto giocare in Under-23 per mettere minuti nelle gambe. E se ora va al Cruzeiro, la Juve rischia di aver solo sprecato soldi. Grazie. Grazie.